Benvenuti, io sono il Cinemazzo e qui si parla solo di cinema, a cazzo! Vi ricordo prima di iniziare di iscrivervi al canale YouTube, mettere la campanellina, condividete, mettere like, fate il cazzo che vi pare, seguirmi su TikTok, seguirmi su Instagram per tante novità, tante cose, perché anche lì faccio robe. Con questi capelli di merda e con questa bellissima felpa di I Killed Build presa non so quanti anni fa a Movieland, oggi i Marvel Studios, così a sorpresa, hanno rilasciato il primo teaser trailer di Thunderbolts, asterisco, che era stato già fatto vedere al Comic Con di San Diego, se non sbaglio, sì, ed era uscita qualche leak su Twitter che poi non si è vista più traccia del teaser trailer di Thunderbolts. Io ero riuscito a recuperare qualcosino e non era male, anzi forse sembrava qualcosa di diverso del Marvel Studios. Oggi invece è uscito il teaser trailer ufficiale di Thunderbolts e anche il poster che vedi, ritorni di Florence Pugh e la sua Elena Belova, che è stata introdotta con quel bruttissimo film Black Widow, infatti Florence Pugh era una delle cose poche belle di quel film, come anche Red Guardian di David Harbour, che anche lui torna in Thunderbolts. C'è anche il ritorno di Sebastian Stan nei panni di Bucky, che a quanto pare sarà il leader dei Thunderbolts, che l'ultima volta che abbiamo visto Bucky è stato con la serie televisiva Falcon e the Winter Soldier, che a me non è mai dispiaciuto quella serie. C'è anche il ritorno di U.S. Agent, interpretato da Wade Russell, figlio di Kurt Russell, che anche lui è apparso per la prima volta in Falcon e in Winter Soldier. E vediamo il ritorno di Ghost, personaggio apparso in Ant-Man and the Wasp, del 2018, se non sbaglio, e dal 2018 che non sappiamo che questo personaggio che fine abbia fatto. E invece adesso lo sappiamo che in Thunderbolts c'è anche Taskmaster, anche questo apparso per la prima volta nel film di Black Widow. Insomma, ci sono tanti personaggi presi da vari progetti riuniti in questo nuovo film, che la logline del poster segna Stai attento a chi assembli. Quindi già diciamo che mi ha messo curiosità, mi incuriosisce questo Thunderbolts, anche perché nei fumetti Thunderbolts sono creati a Norman Osborn, che nell'MCU non c'è, l'unico Norman Osborn che abbiamo avuto nell'MCU è stato quello proprio di William Defoe, ma proviene dall'universo di Raimi e ha combattuto solo Spider-Man, perché i Thunderbolts vengono creati a Norman Osborn quando lui diventa dirigente dello S.H.I.E.L.D. e lo rinomina Hammer, una sorta di suicide squad della Marvel. La curiosità particolare è il fatto che nel titolo del film c'è Thunderbolts con l'asterisco, questo molti dicono in generale, alla fine del film non si chiamerà più Thunderbolts, il gruppo non si chiamerà più Thunderbolts, ma Dark Avengers. Anche Dark Avengers nei fumetti sono, tra virgolette, gli Avengers creati da Norman Osborn, in quel periodo dove Norman Osborn non era più Goblin, o sì, era Goblin, ma andava in giro con un'armatura simile ad Iron Man, e ne facendosi chiamare Iron Patriot. Nel Marvel Cinematic Universe un Iron Patriot già ce l'abbiamo, è stato War Machine in Iron Man 3, però, vabbè, è giusto così, ci sta a cambiare le carte in regola. In Thunderbolts comunque vedremo anche il ritorno di Valentina Allegra della Fontaine, che sembra essere una sorta di Nick Fury, però un po' più cattiva. Ora un personaggio interessantissimo, perché è apparso in Falcon and the Winter Soldier, nel finale di Black Widow e anche in Wakanda Forever, ed è molto interessante vedere dove i Marvel Studios stiano andando a parare con questo gruppo di scalmanati, che non c'entra nulla tra di loro, ma potrebbe funzionare, anzi, nel teaser poster ci sono già bellissime chicchette, c'è anche il costume di US Agent, che è fuori uscito direttamente dai fumetti, c'è un nuovo studio di character design dei personaggi, che sono migliorati. E adesso, dopo tutta questa parpardella di ciccia, andiamo a vedere il trailer. E... via. Eccola Florence, che bella. Il governo di Dordash HQ. Alexei, è me, torna. David Harburg. Ma non! Elena! Ciao Padre. Scusi dei aci, è una Pisacità di importante, è ottimamente clasificato. Che lavorare, che lavorare. Bello vedi ritornare Red Guardian Anche Florence Pugh Bucky Ecolo US Agent Valla Eccolo US Agent Il costume è stupendo Mamma mia Taskmaster Bellissimo il nuovo design Ghost Anche il design di Ghost è davvero Full improvement A me perciò A me perciò Eccolo 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 Contra Eccolo 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 John Walker Eccolo 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 Certo Eccolo Dicolo Eccolo 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 In Falcon and the Winter Soldier forse si accennava al Barone Zemo come leader dei Thunderballs, ma non si è visto proprio nulla, magari ci sarà nel finale, chi lo sa, anche perché Daniel Brun nei palmi di Barone Zemo è una delle cose più belle del Marvel Cinematic Universe. C'è questo personaggio di Bob, Bob, che ormai è palese, interpreterà, sarà Sentry, Robert Reynolds è il supereroe Sentry, supereroe ma anche cattivo perché Sentry è un personaggio talmente potente che ha una doppia personalità, la sua seconda doppia personalità chiamata Void, è una bestia distruttrice, cioè proprio fa bordello a destra, manca. Quindi chissà, sarà un personaggio che, boom, lo inseriscono e poi lo ammazzano solo nel film, tornerà in futuro, tornerà in Avengers Doomsday, chi lo sa, toccherà aspettare i film Thunderballs che uscirà a marzo-maggio, non mi ricordo, però uscirà nel 2025 ed è un film dopo Captain America 4 di cui sono davvero curioso proprio il fatto che rimanga attaccato alla realtà, cioè alla realtà non nostra ma alla realtà del Marvel Cinematic Universe, no? che rimanga più urban, che abbia questo, che utilizzi questo genere di spionaggio, thriller, come se fosse un thriller politico, però anche con un tocco, un'influenza di road movie con questi personaggi che non si conoscono ma avranno l'opportunità di diventare qualcosa durante tutto il viaggio, che magari poi continueranno ad odiarsi, però proprio non possono fare a meno l'uno dell'altro, cioè proprio non possono fare a meno l'uno dell'altro perché hanno bisogno di lavorare insieme, perché riescono a lavorare bene se non si lavorano bene. E' questo che ho intervisto in questo Thunderballs, è un film che secondo me mi ispira, mi piace, mi sembra bello, spero che non mi deludi, spero che questi Thunderballs non vengono poi mandati a fanchiulo come tanti altri personaggi, tante altre storyline introdotte nel Marvel Cinematic Universe, spero che vadano avanti e che siano di vitale importanza per il futuro dell'universo Marvel cinematografico. Staremo a vedere, questa era la trailer reaction di Thunderballs, asterisco, io vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere like, attivare la campanellina, commentare, condividere, fare il cazzo che vi pare, seguirmi su Instagram, su TikTok, ok, io sono il Cinemazzo e qui si parla solo di cinema. A cazzo!